Ma che bontà questi pomodori grattinati al forno. Sono facili da fare e perfetti da abbinare con qualsiasi secondo piatto. Pulisci i pomodori, lavali e poi taglia le affette dello spessore di circa un centimetro. Versa in un piatto del pane grattugiato. Trita finemente uno spicchio d'aglio, del prezzemolo e delle foglie di basilico. Versa gli aromi nel pane grattugiato. Aggiunge anche un pizzico di sale, di pepe e dell'olio extravergine. Mescola bene in modo da ottenere un composto sabbioso e omogeneo. Prendete le fette di pomodoro e passatele da un lato nel pane grattugiato. Adagiatele su una teglia in modo ordinato. Aggiungete i restanti aromi, un filo d'olio, mettete in forno statico già caldo 180 gradi per 15 minuti. Quando li togliete dalla placca del forno servite li caldi magari accompagnati con del pane tostato. Buoni, facili e se l'ho fatto io lo puoi fare anche tu.